Io da questa esperienza mi aspetto di divertirmi innanzitutto, di conoscere gente nuova e di prendere veramente cose nuove dai miei colleghi. Al ritorno di questo viaggio mi vedo con molto più bagaglio, quindi con cose nuove da proporre anche ai miei clienti. Ce la metterò tutta per vincere. Ero molto emozionata, l'agitazione era veramente tanta perché sai quando inizi ma poi dici oddio cosa faccio. Però sono molto contenta del lavoro che ho fatto, mi piace proprio tanto il cambiamento che ho fatto alla modella ed è venuta proprio quello che pensavo da quando ho visto. Quello che mi hanno detto dentro è stato veramente bello, fantastico. Cioè veramente sono dei grandi. È stata veramente un'esperienza fantastica, veramente impegnativa perché comunque si è rimossa sempre sulla nave. Però porto a casa veramente tantissimo. Veramente mi sono riempita al cuore di emozioni e comunque ho conosciuto anche persone che magari non avrei avuto modo di conoscere. È stata una settimana veramente bellissima e rifarei veramente tutto.